Telecamere di videosorveglianza nell'area industriale di Battipaglia. Ad annunciarlo il deputato PD Piero De Luca, che nella giornata di ieri ha presentato il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno per 4 milioni e 300 mila euro e che oltre Battipaglia coinvolgerà le zone industriali di Salerno, Mercato San Severino e Fisciano. Obiettivo del piano garantire maggiore sicurezza in aree nevralgiche dal punto di vista economico e produttivo. È un progetto che nasce da una sinergia politica istituzionale forte tra il Consorzio ASI, i comuni interessati e ovviamente saranno coinvolte poi le forze dell'ordine per instaurare e installare più di 300 telecamere che consentiranno di reprimere e di prevenire la commissione di tanti reati di microcriminalità. Insomma è davvero un progetto importante, a gennaio partirà nel concreto, il Consorzio ASI è stato in grado in soli tre mesi di presentare il progetto e di ottenere il finanziamento al Ministero competente sulla base dell'utilizzo sano, efficace ed efficiente di risorse europee perché stiamo parlando di risorse legate al PON sicurezza e legalità. È un sistema che si prefigge di curare la sicurezza in generale nelle aree industriali, sicurezza sia come deterrenza perché la consapevolezza della presenza di sistemi di rilevazione è un forte elemento di deterrenza, sia per la repressione dei reati. Purtroppo le zone industriali sono di mira da parte sia delle imprese che spesso non rispettano le regole sulle quali bisogna intervenire prontamente sia da parte di avventuri che sfruttando il fatto che sono meno frequentate di sera o comunque aree un po' più isolate durante gli orari non di lavoro diventano ricettacolo per lo sversamento dei rifiuti. Quindi la sicurezza ambientale, la sicurezza fisica e personale, l'elemento di deterrenza, la possibilità di reprimere una serie di cattive abitudini o addirittura una serie di elementi delittuosi, delinquenziali, spesso anche che sono emulativi perché la presenza di un sacchetto o di un'azione non corretta se ne attira altre. Quindi la possibilità di avere uno strumento che agisce sia in fase preventiva che in fase consuntiva è sicuramente un forte elemento di deterrenza. Quando saranno le telecamere e quando partiranno i lavori? Allora, il decreto di finanziamento l'abbiamo ottenuto il 4 ottobre. Siamo nella fase di allestimento dei bandi di gare, di completamento della progettazione. Se non finiamo tutto l'intervento, entro 18 mesi ci revocano i finanziamenti. Quindi non abbiamo possibilità di scelta o di gestione del tempo ma ci è imposto dalla linea di finanziamento perché l'accelerazione è dipesa anche dall'obbligo che abbiamo di spendere le risorse in tempi molto brevi e quindi in 18 mesi dovrebbe essere tutto finito, collaudato e consegnato appena la perdita delle somme che abbiamo ottenuto. Grazie a tutti!